Lunedì 15 novembre, presso l'impianto sportivo Fulvio Bernardini, sportivi, giornalisti ed attori sono scesi in campo per promuovere diritti per tutte e tutti. Quella che si è tenuta è stata una partita caratterizzata dal gioco, dalla gioia, dall'amicizia, dal rispetto e da una leale competizione, come ha sottolineato Riccardo Nuri di Amnesty International. Daniele Macheda, Usigrai, ha evidenziato come il credere in questa idea di inclusione e parità ha unito tutti i giocatori in campo e le associazioni che hanno organizzato l'evento. Scendere in campo e raccontare, come ha rimarcato Tiziano Pesce dell'Uisp, ha dato voce a quella che voleva essere una giornata per tutti per dire no a ogni forma di discriminazione nello sport e nella vita di tutti i giorni. A confermare l'entusiasmo per l'iniziativa è stato anche Umberto Calcagno, AIC, che ha dichiarato quanto questa manifestazione sia stata costruita con un gruppo di associazioni e persone che da sempre condividono questi valori. assist da sempre aderisce a queste iniziative, rimarca Luisa Rizzitelli, perché inclusività, unione e parità di genere sono battaglie di tutti. Grazie. 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 Grazie.